Salve a tutti, oggi vi spiego come togliere questo tra virgolette virus che vi entra nel calendario sugli iPhone. Avete in mente quando andate sul calendario e vi compaiono questi brutti cosi? Attenzione, l'iPhone, bla bla bla. Ogni giorno tantissimi, vedete? Beh, io so come toglierli, allora basta che andate qui sull'evento, poi premete su event e eliminate il calendario. Quindi tutti, tutti verranno cancellati, infatti il 27, il 28 non c'è più nessuno. Ecco, quindi spero che vi sia stato d'aiuto perché a me è successo e non sapevo cosa fare, ma ve lo dico così anche a voi se vi capita potete toglierlo tranquillamente. Ecco, era un video corto e vi ringrazio per il supporto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!